La trentaseiesima giornata non potrebbe ancora prestarsi a sentenze di classifica, il Cesena aspetta il passaggio in Lega Pro ma ha bisogno ancora di quattro punti, ammesso che il Matelica tenga botta a suon di vittoria. Domani Cesena in casa del Notaresco e Matelica contro la Savignanese. Teoricamente potrebbe non cambiare nulla ma dalla teoria ovviamente toccherà passare alla pratica. Due molisane fuori casa, Campobasso e Disernia mentre l'Agnone attende il Pineto. I rosso-blu di Bagatti devono rialzare la testa e chiudere una volta per tutte il discorso salvezza domani ad Avezzano contro una squadra in evidente ripresa. Gli abruzzesi contano di recuperare il molisano grazioso che ha saltato la vittoriosa trasferta di Savignano per un affaticamento muscolare. Fra i punti di forza dei locali sicuramente il portiere Fanti ma anche le due punte Bruni e Padovani. Bagatti ha ripetuto ai suoi il mantra della partita della vita al Dei Marsi cosa che aveva fatto anche alla vigilia della sfida contro il Castelfidardo. Ai lupi manca la costanza per vincere le partite ovvero sono troppo frequenti quelle amnesie che costano punti e vittorie proprio come è successo domenica a Selvapiana. Intanto va registrato come ieri il Tribunale federale ha accolto due dei tre ricorsi presentati recentemente dal Campobasso. L'altro è stato momentaneamente rigettato. Andiamo con ordine. La società aveva proposto ricorso avverso le vertenze di Balistreri e Varsi, due tesserati dello scorso campionato. Nei casi menzionati il Tribunale ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto fra i tesserati e la società e dichiara cessata la materia del contendere. Invece a proposito del ricorso avverso l'avvertenza dell'ex attaccante Mario Gurma, il Campobasso difeso dall'avvocato calabrese con l'assistenza del legale Cilenti si è visto respingere la propria posizione. La società ha già annunciato che proporrà appello avverso tale decisione. Gurma vanta un credito nei confronti del Campobasso di poco superiore ai 23.000 euro. Si parla tanto di un punto da fare sul campo per ottenere la salvezza matematica, ma il famigerato punto potrebbe arrivare anche domani a Tavolino durante la gara di Avezzano. Infatti domani stesso è attesa la sentenza a proposito del ricorso presentato dal Campobasso avverso la recente penalità di un punto allo stadio dei Marsi di Avezzano. La gara fra i locali e di Rosso Blu sarà diretta dal signor Porchedu di Oristano. L'Isernia va a San Mauro di Romagna contro una formazione che è nella stessa situazione del Campobasso, cioè ancora bisognosa di un punticino per la matematica salvezza. I Pentri saranno nella lontana Romagna senza lo squalificato Barretta, fermato per due turni dal giudice sportivo. Rosso diretto per lui contro l'Agnone nel derby. Immagini alla mano abbiamo anche dimostrato come l'espulsione del giocatore Isernino fosse quanto meno opinabile. Nel comunicato del giudice sportivo viene testualmente dichiarato che Barretta pone le mani al collo di un avversario spingendolo fino a farlo cadere a terra. Assenza difensiva pesante per Silva che potrebbe arretrare la posizione di Frabotta come già fatto in più di una circostanza. I Pentri cercheranno di fare il massimo dei punti in una disperata griglia play-out attuale nella quale è severamente vietato sbagliare. San Maurese Isernia sarà arbitrata dal signor Giurgevic di Trieste. Agnonese Pineto non può ammettere altro risultato che la vittoria per la squadra di Mecomonaco, il quale dal suo ritorno in panchina si è visto sfumare due vittorie nei minuti finali. Con quattro punti in più sarebbe stata tutta un'altra storia, ma meglio guardare avanti, cioè ad un Pineto che è in piena zona play-off, una squadra pericolosa ma che dovrà trovare quantomeno un ambiente ostile al Civitelle. Mecomonaco ha tratto indicazioni positive dal derby come lo stesso gol di Diarrà, ovvero il calcio di rigore che si è procurato formoso. La squadra però si è dimostrata fragile nel momento in cui stava per prendere corpo la vittoria. Ad oggi l'agnone sarebbe in eccellenza, ai Granata toccherà indossare l'elmetto e di sotterrare l'ascia di guerra per abbattere il muro del Pineto domani al Civitelle. La sfida fra gli altomolisani e la squadra di Amaolo verrà diretta dal signor Frosi di Treviglio.